Festival Olivettiano voluto dall'Istao che ha saputo cogliere il momento particolarmente felice per tornare a parlare di economia, di etica e di nuova via per lo sviluppo. Giancarlo Trapanese. L'insegnamento di Adriano Olivetti che pose i valori etici al centro della sua missione di imprenditore conferma che stiamo facendo un errore macroscopico. Stiamo cercando di spiegare la crisi con modelli non più validi. Questo ha sostenuto il presidente dell'Istao Andrea Merloni nell'ambito del Festival di Cultura Olivettiana organizzato ad Ancona dalla Fondazione Olivetti e dall'Istao, l'Istituto per la Formazione Manageriale intitolato alla memoria degli imprenditori di Ivrea. È in corso un grande cambiamento storico, ha detto Merloni, che porterà ad un'integrazione dei valori olivettiani nei modelli economici. Le performance di un soggetto economico vanno misurate anche attraverso parametri sociali guardando all'impatto sull'ambiente, sul territorio, sulla comunità. L'impresa, misurata unicamente secondo logiche di profitto, resterà sempre dietro la finanza. L'ottimo riscontro ottenuto dal Festival è segno che la scelta dell'Istao di affrontare questi temi ha colto nel segno. È parso evidente che c'è un forte bisogno di capire e di ripensare il futuro e appuntamenti come questo festival diventano così luogo privilegiato di riflessione per un nuovo modello economico e sociale che non può tardare ad essere sviluppato.